Un momento complicato per le relazioni umane. Il tentativo di autodistruggersi della nostra specie viene replicato in molte forme che gli scienziati hanno unificato e identificato con il termine BOOM. Gli strumenti culturali vengono forniti ai piccoli fin dalla prima infanzia e l'ingegnosità tipica dell'età trova uno sbocco attivo già nell'adolescenza e nella prima giovinezza. È stata trovata la chiave per annullare la resistenza ai molarsi, che risulta più efficace nelle culture con più tempo libero per l'approfondimento e lo studio dei meccanismi esplosivi. In altri paesi a cultura diversa, invece, che sulla qualità, si punta sulla quantità e quindi sulla potenza dello scoppio, in genere controllato a distanza. È incerto il risultato finale di questi esperimenti e per questo aumenta lo scambio di informazioni cardine dei risultati. Ma forse no.